Ciao a tutti ragazzi e bentorni sul canale, come va spero che state bene e che state trascorrendo una splendida giornata in questo video voglio parlare con voi di Champions League quindi voglio andare a introdurre le quattro partite appunto che vedranno coinvolte le italiane e vedere magari un pochino quali potrebbero essere le insidie anche perché le situazioni non sono a volte proprio rose però partiamo dal primo match ovvero a dire quello tra Vittoria Pulsen e Inter un Inter che ha perso la prima partita per lo 0 contro il Bayern e che quando dovesse vincere andrebbe a tre punti comunque un giorno è molto complicato perché comunque vede come protagonisti appunto Bayern, Vittoria Pulsen e Barcellona quindi tutt'altro che scontato e questo in parte potrebbe anche essere, non dico una scusante però secondo me non si può neanche essere troppo cattivi con questa Inter perché ripeto non ha squadre di basso rango certo l'Inter è una squadra forte, deve fare meglio, deve cercare di essere più concreta deve trovare più continuità con un inzag un pochino sulla graticola diciamo così in queste ultime settimane però l'Inter è forte quindi secondo me può comunque dire la sua con quel tocco anche di fortuna perché giustamente anche quella ci vuole potrà dire appunto la sua nel girone appunto giocherà contro il Vittoria Pulsen, squadra che comunque si schiera con un 4-3-1 e che però diciamo che l'Inter deve stare attenta a qualche suo elemento e per ogni squadra diciamo ho indicato qualche giocatore che potrebbe creare un po' di grane appunto analizzando anche la squadra italiana contro la quale va a giocare il primo è Thomas Chory che sebbe un attaccante alla punta centrale veramente tanto fisicata che comunque potrebbe sfruttare un po' quelle amnesie difensive dell'Inter abbiamo comunque visto come molte volte le distanze tra i due braccetti e gli esterni quando vanno a difendere sono un pochino troppo larghe, sono un pochino troppo evidenti quindi magari ecco un Chory potrebbe tranquillamente cercare quello spazio e insomma gli esterni devono essere un po' più attenti idem combatate per Gior Moschiera che comunque è una sinistra anche lui sia Chory che Moschiera hanno segnato 3-4 gol fino ad ogni stagione comunque sono elementi interessanti, Moschiera d'esperienza classe 90 e anche lui potrebbe mettere un po' in crisi quelle falle difensive in quelle zone buie tra i braccetti e gli esterni di centrocampo quindi attenzione, attenzione in più però gli esterni devono stare anche attenti al terzino destro Milan Havel classe 94, pensate 14 partite, 2 gol e 3 assist che per un inizio di stagione e contando che si tratta di un terzino non è per nulla diciamo scontato anche perché comunque lui è un destro di piede che può giocare anche a sinistra quindi può anche giocare sul piede, diciamo, sull'entrare sul piede forte quindi potrebbe creare un po' di grattacapo di grattacapi passiamo poi al Milan un Milan che dopo il pareggio contro Salisburgo per 1-1 va a giocare contro Dinamo Zagabria Dinamo Zagabria che ha battuto il Chelsea partite che ha portato all'esonero di Tuchel in questo caso se il Milan dovesse vincere andrebbe comunque a 4 punti un buon bottino, devo dire sempre tenendo conto appunto che comunque il Milan dovrà giocare anche contro il Chelsea quindi più fino in cascina viene messo, meglio è anche Dinamo Zagabria è una squadra che si schiera con il 4-3-1 in questo caso secondo me gli uomini un po' più pericolosi sono due il primo lo si conosce tutti che è Misla Vorsic in stagione 16 partiti, 10 gol e 7 assist insomma un giocatore esperto, classe 92 che può giocare anche come primo o secondo a punta però ecco lui è sicuramente l'uomo al quale il Milan deve prestare un po' più attenzione sul discorso delle fasce e questo porta anche al discorso che uno degli esterni difensivi debba essere un po' più difensivo ecco perché, scusate, uno degli esterni destri debba essere un po' più difensivo ovviamente parlo di uno tra Terzino e Ala a destra del Milan perché sulla sinistra agisce Bokai Peter Bokai, un giocatore classe 96 quindi anche discretamente giovane, discretamente esperto e che può giocare sia come Ala offensiva ma anche come Terzino quindi ipotizzando se un Bokai dovesse giocare come Terzino sinistro per esempio ecco che magari un Senemeker potrebbe dare una mano ulteriore a un calavero di esplosione per arginare un pochino questa pericolosità pensate, in stagione dice 9 partiti, 2 gol e 4 assist assolutamente male per uno che fa il doppio ruolo i Rangers, o meglio il Napoli, scusate che va in terra di Scozia per giocare contro gli Glasgow di Rangers squadra che negli ultimi anni per fortuna è risorta io sono un amante dei Rangers da una ventina d'anni un Napoli che viene da una vittoria per 4-1 contro Liverpool quindi perché è importante vincere contro i Rangers? perché darebbe in primi scontinuità la seconda cosa non annullerebbe la grande prestazione contro Liverpool o quantomeno i tre punti guadagnati contro il Liverpool ovviamente poi l'altro nel girone con anche appunto Napoli, Liverpool, Rangers e l'Ajax un Ajax che comunque è sempre un'ottima squadra che ha riportato in un'importante squadra e che sta trovando ovviamente il suo cammino dopo tutto l'Ajax e questo quindi mai sottovalutare gli olandesi in questo caso anche i Rangers giocano con il 4-3-1 e in questo caso diciamo che un elemento sul quale punta lo sguardo è molto scontato stiamo parlando di James Tavernier comunque un terzino destro gol ad or quindi sulla fascia destra attenzione Napoli poi comunque vi è anche il centroavanti Ciola classe 93 tedesco 11 partite 7 gol e un assist fino ad ora quindi sono molto curioso di vederlo all'opera di vederlo contro ecco magari un Kim Minjai per esempio un Rachmani che devono soprattutto Kim Minjai dovrò insomma un po' anche arginarlo ovviamente non è un compito che sarebbe assurdo per Kim Minjai però insomma ecco Antonio Ciorac su Antonio Ciorac bisogna insomma mettere un po' più di attenzione di Tavernier abbiamo già parlato l'ultimo che potrebbe essere un pochino l'outsider è Malik Tillman un classe 2002 che può giocare esattamente in tutte le posizioni da tre quarti in avanti perché ha giocato come come attaccante soprattutto ha giocato come alla sinistra però comunque ha giocato anche dal quartista e da alla destra insomma un giocatore interessante 2002 Gian Musconi in stagione potrebbe essere un una spiega di fianco per il Napoli ovviamente in questo caso vedo il Napoli un po' più solido rispetto a un Milan poco più solido rispetto al Milan il più solido decisamente rispetto all'Inter quindi potenzialmente ecco magari il più pericoloso potrebbe essere Tavernier ma mai abbassare la guardia ultima partita Juventus Benfica la Juventus dopo la sconfitta per 2-1 con il PSG va bene la reazione va bene qui dopo anche il casino del VAR dopo anche la reazione contro nessun modo la sarnitana però la Juventus è chiamata ad essere regolare perché come ha detto anche Bonucci non si può vivere una stagione sulle montagne russe la Juventus in questo caso se dovesse vincere andrebbe a tre punti quindi stessa situazione rispetto all'Inter il problema è uno che l'Inter ha il Bayern e il Barcellona la Juventus ha il PSG ma tecnicamente sulla carta Benfica e Maccabi Haifa sono di più basso rango ecco perché la Juventus deve vincere contro il Benfica altrimenti sono guai sono guai e rischi veramente di o finirtene in Europa League o addirittura uscirte nei gironi ulteriore danno dopo la Beffanes comunque dopo un calciomercato importante sfigato va bene comunque di Maria un po' sì un po' no anche a livello fisico Pogba fuori chiesa fuori vabbè anche il Benfica gioca con un 4-2-3-1 però in questo caso insomma sarebbe molto superfluo dire insomma chi potrebbe essere più pericoloso perché in primis con questa Juve tutti possono esserlo e seconda cosa perché insomma ragazzi i giocatori del Benfica sono noti Musa Rafa Silva Draxler Neres insomma sono tanti i giocatori che potrebbero dare grattacappa alla Juventus sicuramente sulla fascia destra bisogna essere attenti perché comunque c'è un certo rimaldo giocatore con il contratto di scadenza nel giugno 20-23 che potrebbe essere un obiettivo Juventino già a partire da gennaio probabilmente dalla stagione 23-24 quando il contratto di Alessandro andrà a scadenza ma stiamo a vedere però insomma la Juventus secondo me è quella che veramente rischia tanto ovviamente tifosi di coteste squadre amanti calcio fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate perché ci tengo tanto alla vostra opinione quindi non mi resta far altro che mandarmi un abbraccione e vi rimando al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti